Cosa ha combinato Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo al Circo Massimo? Una ragazza disabile lo ha spiegato su Instagram. Ultimo ha tenuto un concerto al Circo Massimo e all'evento erano presenti alcuni ex vipponi di signorini, fra cui Manuel Bortuzzo. Proprio quest'ultimo è stato coinvolto in una grandissima polemica del web per un post della pagina Veneto Accessibility. Ma cosa è successo? Leggi anche, Selvaggia Roma è incinta, aspetta il primo figlio dal fidanzato, ma chi è Luca Teti? Foto e Instagram Cosa è successo a Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo? Manuel Bortuzzo è stato al concerto di Ultimo al Circo Massimo e la ragazza che gestisce la pagina Veneto Accessibility, una guida per i disabili su tutti i posti realmente accessibili per chi è in questa condizione, ha pubblicato le immagini condivide. Nel suo post, la admin parlando di Manuel ha detto, la reazione del nuotatore Manuel Bortuzzo, per tutta risposta, ha bloccato la ragazza disabile che gestisce la pagina Instagram Veneto Accessibility. Ecco le parole della admin, il post ancora, nel post pubblicato dalla pagina, leggiamo queste parole sull'accessibilità per i disabili ai grandi eventi, come per il concerto di Ultimo, e su Manuel Bortuzzo, e infine, al momento Bortuzzo non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quanto successo al concerto di Ultimo. Lo farà, lo scopriremo nelle prossime ore. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti.